benvenuti a tutti oggi presenteremo due volumi anzi gli ultimi due volumi della collana letteratura tradotta in italia che sono il libro di rene fantappia franco fortini e la poesia europea riscritture di autorialità e il libro di martina mengoni i sommersi salvati di primo levi storia di un libro prima di lasciare la parola a nicolò scaffai che ha gentilmente accettato di discutere con le autrici e con il pubblico oggi i due volumi mi prendo cinque minuti per presentare la collana letteratura tradotta in italia che codirigo insieme a rene e michele sisto è nata nel 2018 con il primo libro pubblicato che è stato la letteratura tedesca in italia un'introduzione 1900 1920 che ha la caratteristica di avere 10 scusate di essere stato scritto a dieci mani e di avere 15 autori e autrici in effetti questo libro è il prodotto di un progetto di ricerca che era cominciato nel 2013 durato cinque anni e intitolato storie mappe digitali della letteratura tedesca in italia editoria campo letterario interferenza di fatto la collana nasce come uno spin off del progetto di ricerca originario e l'impostazione che abbiamo voluto dargli è di studiare le letterature straniere in italia come parte integrante del sistema della letteratura nazionale quindi nel nostro caso la letteratura italiana l'obiettivo sarebbe quindi di allargarci all'interno della collana al di là della letteratura tedesca anche se come forse riuscita a vedere dei titoli ancora è ovviamente il è ancora la letteratura predominante perché c'è una relazione insomma genetica con il progetto originario però per esempio già abbiamo ospitato un testo che ha a che fare con la letteratura russa tradurre così a russa di alessandro nero l'impostazione che abbiamo dato alla collana a vorrebbe un po essere innovativa rispetto ai più tradizionali studi di ricezione o studi della influenza di un autore straniero su un autore italiano su un movimento italiano o su un periodo italiano vorremmo rovesciare la prospettiva e vedere il motore delle relazioni tra le letterature italiana e le letterature straniere all'interno del campo letterario italiano perché in effetti come abbiamo visto nel progetto di ricerche come i libri successivi non hanno fatto che confermare chi prende le decisioni i gatekeepers sono attori del campo letterario italiano e anche la punto influenza come una volta si chiamava in realtà un processo molto spesso estremamente creativo e credo che proprio i due libri di oggi libri di martina libri di rene vadano proprio con questa direzione mostrare quanto appunto le letterature straniere i testi gli scrittori poeti stranieri diventino abbiano bisogno appunto di una di un elemento attivo da parte della dell'agente importatore che sia un poeta come fortini oppure uno scrittore come primoleri come ultima ultima diciamo informazione generale ci come vedete c'è un buco bianco per il momento nel sito di quadlibet verrà presto riempito perché a ottobre uscirà un sesto volume di daria biaggi che sarà intitolato prosaici e moderni il romanzo tedesco nell'italia del novecento quindi siamo ancora nell'ambito di genetico del nostro progetto originario però l'obiettivo è di far sì che questa collana così come del resto il database che è stato prodotto dal progetto si allarghi ad altre letterature diciamo è una fase per cui siamo decisamente più avanzati come potete vedere dal punto di vista del database dove già abbiamo dati sulla letteratura russa sulle letterature di lingua inglese sulla sulle letterature scandinave e ovviamente poi c'è il set di dati originario quello sulla letteratura tedesca dunque prima di presentare gli ospiti vorrei dare un'idea al pubblico di come si svolgerà la presentazione ci siamo accordati per dare la parola per una presentazione che raccoglierà entrambi libri da parte di Niccolò Scaffai poi lasceremo la parola alle autrici e infine avremo la nostra sessione di domande e risposte per domande e risposte abbiamo verificato che è molto più pratico se la persona che vuole fare la domanda lo segnala in chat perché così rimane traccia altrimenti con le manine alzate si rischia di perdere la informazione che qualcuno vorrebbe intervenire ora prima di lasciare la parola veramente a Niccolò presento sia Niccolò che le nostre autrici Niccolò Scaffai insegna critica letteraria e letterature comparate alle università degli studi di Siena dove aver insegnato lungo all'università di Lausanne è direttore del centro inter dipartimento scusate l'impinto del centro inter dipartimentale di ricerca Franco Fortini e della rivista e delle due riviste anzi che gli si accompagnano che sono l'ospite ingrato la rivista diciamo tradizionale e l'ospite ingrato online che ha più la forma di un blog oltre a l'ospite ingrato fa parte dei comitati direttivi di numerose altre riviste between italianistica l'immagine riflessa polissemie prassi ectotiche della modernità letteraria sinestesie ed è nel consiglio scientifico o nella redazione di altri periodici e di collane editoriali fa parte della giuria di diversi premi elettorali non elenco i suoi titoli pubblicati perché sarebbe troppo lungo Niccolò che si occupa di poesia moderna letteratura del novecento comparatistica e teoria letteraria tra gli argomenti delle sue ricerche e pubblicazioni recenti ci sono le opere di montale i sereni la relazione tra letteratura e ecologia primo levi e il racconto della shoah presento ora anche le nostre autrici per non fare un ulteriore pausa prima della discussione la Irene Fantapie dirige un progetto di ricerca DFG alla Freie Universität di Berlino formatosi presso l'università di Bologna e presso UCL borsista Humboldt e ricercatrice alla Humboldt Universität si occupa di letteratura tedesca e italiana dalla prima età moderna a oggi particolarmente in relazione a intertestualità e traduzione le sue pubblicazioni Carl Krauss e Shakespeare e l'autore esposto Martina Mengoni invece è assistente di lingua e letteratura italiana all'università di Berna e collabora con il centro studi primo levi di Torino ha pubblicato diversi saggi su levi tra cui la ottava lezione della prestigiosa collana lezioni primo levi dedicata a primo levi e in tedesco e ora veramente mi taccio e lascio la parola a Niccolò grazie 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 Anna Baldini per la presentazione e grazie per l'invito a parlare di questi due libri molto belli libri importanti che si collocano in una in una serie che ci ha illustrato poco fa Anna eh ugualmente bella e eh e importante ehm avendo deciso insieme alle organizzatrici e alle autrici di eh parlare insieme insomma anche se naturalmente distintamente dei due volumi eh mi pare un buon modo di eh cominciare quello di citare delle occasioni eh rare complessivamente ma abbastanza significative occasioni di incontro critico che ci sono state tra Fortini eh e Levi ovvero di Fortini su Levi ehm due scritti due scritti ehm tralasciando altre circostanze diciamo negli anni precedenti ma due scritti postumi eh alla morte di Levi c'è eh in morte di primo Levi per l'appunto e eh l'opera in versi di primo Levi che eh è stato poi incluso anche nella famosa antologia critica di Enaudi a cura di eh di Ferrero ecco nel nel primo scritto ehm Fortini eh esordisce dicendo che eh ha riletto la tregua ed è con i sommersi e i salvati c'è uno dei libri ed uno dei libri di cui parleremo oggi ecco in i sommersi e i salvati il libro più bello di Levi e su questo eh su questo aggettivo abbastanza come dire eloquente in un in un critico come Fortini assai poco impressionistico eh su questo aggettivo ritorna alla fine quando dice che i sommersi e i salvati è un libro bellissimo ecco non so quanti siano i eh i superlativi nella critica di Fortini credo che certamente non li abbia sprecati non sicuramente in questo caso il secondo scritto quello che eh citavo l'opera in versi di primo Levi è sul piano critico eh ancora più eh interessante e notevole perché mi pare che eh il critico in quel caso eh metta in opera una sorta di Fortinizzazione di Levi eh di Levi poeta ehm che è anche forse un modo di eh ai suoi occhi insomma di riscattare versi che eh che lui stesso definisce non eccellenti ma non è questo non è il giudizio di valore che mi interessa quanto i termini che usa quindi leggo un paio di brevi passaggi di questo scritto che ora si legge nel meridiano Fortini a cura di eh a cura di Luca Lenzini ehm se le cose stanno come dico scrive Fortini allora si capisce che i risultati più emozionanti e che più si avvicinano alla poesia siano quelli relativamente stranei alle tematiche di cui ho eh discorso parentesi a prodo i gabbiani di settimo con i loro epicizzanti toponi perfetto apologo degno di Brecht e quella dedica del 12 luglio 1980 che mi pare molto bella con l'eloquenza delle iterazioni continuamente smorzate dal ritmo obliquo e incerto che salgono fino alla dichiarazione patetica del non è più tempo di vivere soli poco dopo continua eh dicendo questo il libro dei versi è completato da alcune versioni quasi tutte dall'amato Hein e eh come le due che sono incluse tra i versi propri una da Rilke che aiutano a capire eh un tratto di tutte queste sue scritture poetiche esse paiono tutte come versioni da testi che non esistono ecco le coordinate Fortiniane diciamo che eh che emergono che Fortini fa emergere nei versi di eh di eh Levi rimano per così dire con alcune delle più eh importanti osservazioni che eh emergono nel nello studio di cui mi avvio a parlare Irene Fantapierre l'importanza di Brecht il nome di Heine che ricorre e la formula soprattutto versioni da testi che non esistono che eh ricorda forse non è proprio la stessa cosa ma ricorda quel concetto di traduzione immaginaria dalla poesia europea a cui è dedicato uno dei capitoli del libro di eh di Irene Fantapierre l'ultimo eh eh ne approfitto per partire dal fondo in qualche modo ma credo che sia una eh un'inversione che possa avere un suo senso ehm Irene Fantapierre scrive in quel capitolo che la traduzione immaginaria e la cito eh non esprime tanto il gesto di dar forma alla propria autorealità quanto il tentativo di eh rifugirla di metterla a distanza o persino di metterla alla prova diciamo in qualche modo anche di decostruirla e eh in fondo se volessimo continuare con i paralleli più o meno eh così convergenti potremmo dire che anche Levi in qualche misura decostruisce la sua postura testimoniale attraverso la metà irrazionale a cui le le poesie danno voce ehm ed il resto poi parte importante ma ne ne parleremo ne parlerà penso soprattutto Martina Mengoni parte importante dell'attività di Levi si eh si si svolge a contatto con la con la traduzione nei due nei due sensi naturalmente infortine è altra è altra cosa ed è una relazione determinante come forma di relazione di attraversamento della tradizione eh e di eh rapporto con la cultura anzi con le culture la propria e le culture altre come quella della Polonia o della Cina alluse insomma in queste traduzioni eh immaginarie sulle quali Irene Fantapie costruisce una eh finissima analisi delle varietà eh tipologiche che cito proprio perché mi pare eh esemplare del modo di eh procedere eh dell'autrice cioè eh distinguendo quindi tra traduzioni immaginarie eh stricto senso traduzioni immaginarie che sono esplicitamente presentate come tali traduzioni immaginarie che in realtà sono composizioni poetiche originali che alludono nella forma nei contenuti ai testi gli autori che Fortini ha poi in altra sede davvero eh tradotto eh traducendo Brecht quindi con una diciamo una una categoria che si avvicina se non proprio si sovrappone a quello che faceva Sereni con Scharzo ehm poi ancora imitazioni citazioni di autori eh italiani per esempio Saba e poi traduzioni che adottano una lingua eh come dire è anticata in qualche modo come avviene per le versioni da eh da Gongora. Eh ecco dicevo è un sono soffermato su questo capitolo finale perché mi pare esemplare del modo di procedere di eh di René Fantapie che si è un modo di procedere un approccio che ha che unisce una precisione eh distintiva che è funzionale alla definizione di uno spettro di atteggiamenti dell'autore rispetto alla propria autorialità ehm con una messa in rilievo dell'elemento stilistico insieme però a un elemento diciamo socioletterario un approccio strutturale e insieme un approccio eh polisistemico alludendo a quelle mensuale che eh che è molto eh presente come eh sostrato critico teorico in questo libro ehm e insieme attraverso attraverso questo questo doppio sguardo la Irene Fantapie mostra la capacità di eh fare emergere tutte le domande sulla funzione dell'autorialità che la eh che l'attività la poesia e l'attività di traduttore di Fortini eh esprimono ehm corrispondendo molto bene a eh i poli proprio della tensione che percorre la scrittura e la figura stessa di eh di Fortini tra lo scrivere e eh l'interrogarsi sulla funzione che questo ha. ehm quindi è un libro quello di René Fantapie che attraverso questo questa prospettiva entra eh in profondità nella dimensione dello scrittore cioè coglie una eh dell'autore coglie un accesso eh privilegiato che ehm non è mai che non era prevedibile ecco neanche neanche parlando di traduzione sappiamo quanto si sia eh quanto Fortini abbia tradotto quanto le sue lezioni sulla traduzione siano importanti e quanta parte della critica anche recentemente penso a un numero dell'ospite ingrato che che ospita che appunto che accoglie eh gli atti di un convegno senese su Fortini traduzione ecco tutto questo tutta questa dimensione era era ed è studiata però leggendo il libro di eh Irene Fantapie si capisce anche l'originalità dello sguardo che Irene ha saputo portare su una materia eh notasi ma che riconfigurata in questo modo da una uno sguardo sull'autore direi eh molto nuovo molto originale eh e questo sguardo risalgo un po' procedo un po' a rebur insomma dalla fine risalgo verso l'inizio dicevo questa prospettiva questo sguardo è eh intrecciato si 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 unisce proprio ai presupposti del libro che sono come ricordava adesso Anna Baldini anche in parte i presupposti della collana intera cioè il primo la considerazione della letteratura tradotta come parte integrante della letteratura nella lingua d'arrivo e poi l'altro eh elemento e fondamento diciamo teorico del libro eh di Irene l'autorialità da mettere in relazione con l'intertestualità a eh creare una un concetto che non è soltanto una eh un movalise cioè interautorialità ma è veramente anche un concetto eh illuminante anche al di là di Fortini insomma anche per altri per altri autori eh figura autoriale soggetta a processi di appropriazione e di eh e di adattamento che tengono conto della relazione e della posizione nel campo dell'autore eh dell'autore tradotto di cui l'idea delle riscritture di autorialità appunto a cui è eh a cui allude il sottotitolo del del libro eh quindi Fortini ecco è eh per questo anche sono partito dal fondo Fortini è diciamo esempio eh calzante di queste categorie ma neanche ispiratore ideale ecco non nonostante il libro sia molto marcatamente bi partito tra una prima parte più teorica che ha una sua eh validità e auto potrebbe avere una sua validità e autonomia anche al di là dell'esempio Fortiniano seguita da una seconda parte più analitica ecco nonostante questa marcata di divisione però la eh il caso Fortini appunto non è eh soltanto un banco di prova a cui dall'esterno si applica una griglia interpretativa ma al contrario fornisce proprio le l'ispirazione le coordinate per mettere appunto quelle categorie teoriche che molto utilmente Irene Fantapie eh delinea anche con una eh riferimento insomma con un dialogo diciamo con ehm con gli studi sull'intertestualità ecco intesi nella nel loro senso più ampio nel raggio più eh più esteso che eh questo concetto eh può raggiungere ehm tra i fuochi insomma del tra i fuochi del libro che richiamano ma le competenze e gli studi eh di eh Irene Fantapie c'è proprio quel rapporto che eh a cui alludevo prima attraverso Levi tra eh tra Fortini e eh e la postura la collocazione insomma intellettuale del eh del modello che implica che come mostra bene Irene Fantapie come dire suggerisce anche la messa in valore quindi la elezione da parte di Fortini traduttore di testi non brechtiani ma che possono essere eh passibili di un'assimilazione eh brechtiana di una marcatura mi pare che questo termine ricorra a proposito di di Krauss per esempio ehm non 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 credo se non ho visto male se non l'ho trascurato non mi pare che si è evocata l'idea di eh ansia dell'influenza ecco nello spettro di possibilità di rapporti di teorie sui rapporti interfessuali però forse nel caso di Fortini eh brecht questa questa sorta di se non di ansia insomma di tensione eh esiste magari Irene potrà se vorrà dopo eh parlarcene ecco ehm solo per ragioni di di tempo e per tentare di restare almeno vagamente nel tempo che Anna ci aveva assegnato eh tralascio moltissime altre osservazioni che andrebbero fatte ma sulle quali eh penso che torneremo e approfitto appunto del nome di Brecht che ho fatto attraverso Levi proprio per arrivare a Levi e al eh bel libro di eh Martina eh di Martina Mengoni sommersi e salvati di Primo Levi sono due libri evidentemente diversi ma complementari se non altro perché la per il rapporto con la traduzione appunto se per Fortini è più il versante come dire del traduttore che conta per Levi certo c'è anche il traduttore eh Martina Mengoni è la prima a saperlo e averlo ben studiato ma eh conta forse ancora di più insomma in questo libro certamente il Levi tradotto il Levi che vuole essere tradotto e che vuole essere eh ascoltato soprattutto ehm ci sono degli elementi però al di là di questa differenza degli elementi in comune diciamo di 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 metodo forse di procedura via un esempio è l'importanza del dialogo con degli interlocutori che eh dialogo che si svolge attraverso i rispettivi testi dei dei due autori per esempio un dialogo tra Levi e Ameri nel di cui si si parla dialogo anche a distanza e certamente sono problematico di cui si parla nel libro di eh Mengoni il dialogo mh di sì di cui insomma conoscevo i documenti ma sulla cui intensità non avevo ben riflettuto tra Fortini e Folena per esempio su cui su cui si sofferma molto bene eh Fantapie e poi un altro elemento cruciale che accomuna sul piano delle procedure i due libri di Fantapie e di Mengoni è l'importanza delle lettere eh evidentemente che eh fanno sì che eh il processo di lettura che i due libri mettono in opera si si compia ehm attraverso la profonda conoscenza l'esame anche molto capillare dei contesti sia quelli teorici sia quelli storico letterario addirittura storico personali nel caso di eh di Levi offrendo quindi una interpretazione che ehm eh vorrei dire orizzontale più che verticale che non vuol dire che non sia naturalmente profonda che non scenda insomma nel nella profondità del testo ma lo fa paradossalmente attraverso uno sguardo su ciò che circonda il testo né e che ne è movente che ne è eh che ne è elemento di reazione in qualche modo e sono questo questo sguardo questa questa orizzontalità diciamo è necessaria per capire quei moventi quelle posture di cui si dice ehm ci sono poi anche degli elementi significativi proprio per le specifiche questioni la traduzione evidentemente ma anche per esempio eh insomma in qualche modo incrociando i due libri sarebbe interessante riflettere sulla possibilità di leggere Levi alla luce delle categorie di polisistema ovvero le il Levi tradotto come si inserisce nel sistema letterario che lo riceve e come e se contribuisce a eh modificarne a modificarne degli assetti oltre naturalmente alla a Levi che entra nella cultura tedesca oggi interessante sarebbe riflettere ma lo si è fatto insomma naturalmente Anna per esempio stessa ha contribuito a farlo come per esempio l'edizione completa delle opere in lingua inglese eh si è polisistematicamente eh eh ambientata nel mondo nel mondo della letteratura e della cultura eh nordamericana eh e poi un altro elemento eh decisivo che da diverse prospettive ma può accomunare due libri è la questione proprio della riscrittura di autorialità cioè una domanda che potremmo che naturalmente Martina Megoni si pone a cui dà delle risposte convincenti ma che potremmo riformulare alla luce dell'altro libro quello di René Fantapie è questa i sommessi e i salvati può essere letto anche come un contributo a una diciamo autoriscrittura di autorialità testimoniale da parte da parte di Levi non so vedremo se questo concetto può essere adottato oppure no o solo in parte certo è che eh ci sono nella nel nei sommessi salvati dei brani che appaiono quasi come degli esami di coscienza testimoniale eh mi viene in mente il brano appunto leggendo il libro questa settimana il libro di Martina Mengoni una tornava in mente un passaggio della memoria dell'offesa che eh che mi pare possa essere letto in questo senso è che cito eh è stato notato scrive Levi in quel capitolo iniziale è stato notato ad esempio che molti reduci da guerra o da altre esperienze complesse e traumatiche tendono a filtrare inconsapevolmente i loro ricordi rievocandoli fra loro o raccontandoli a terzi preferiscono soffermarsi sulle tregue sui momenti di respiro sugli intermezzi grotteschi o strani o distesi e sorvolare sugli episodi più dolorosi con quella parola tregue è una forse una una spia o magari uno specchietto per le allodole insomma però eh non si può fare a meno no di pensare che uno scrittore che usa questa parola eh avendo scritto un libro così intitolato non possa in qualche modo fare i conti anche con se stesso così come quegli intermezzi grotteschi o strani o distesi eh possono far venire in mente certe rielaborazioni della narrativa breve o nella o nella composizione del sistema periodico eh rispetto a agli eventi eh concentrazionari ecco il libro di Martina Mengoni illustra come non era stato mai fatto ancora con questa chiarezza e documentazione sulla base di una ricerca molto originale come come si può arrivare da parte di Levi a questa consapevolezza diciamo quali eh quali incontri quali confronti possono averlo portato a per così dire non so se è corretto ma insomma ha una sorta di terza fase non necessariamente cronologicamente successiva insomma ma in parte anche sovrapposta alle altre due cioè quella testimoniale quella narrativa fittiva come si arriva ecco mi pare che un punto cruciale del libro di Mengoni sia questo quando scrive la pagina 143 che nel 72 73 in contemporanea proprio con la lettura di 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 uomini ad Auschwitz che che è a cui dà molto valore e importanza al libro di Mengoni la scrittura di Levi dicevo cioè scrive Mengoni eh prende due direzioni la scrittura su Auschwitz un filone assimilabile a cerio ai racconti di eh di Lilith in cui la dimensione della prima persona dello sguardo ristretto e approfondita e spinta fino ai suoi estremi sviluppi ma con un mutamento di tono scenari protagonisti e poi un secondo filone che è quello che si inaugura con l'appendice all'edizione scolastica di se questo un uomo che prosegue e culmina nei sommessi e salvati mi sembra molto molto giusta insomma con questa distinzione che si che potrebbe anche poter secarsi con quelle osservazioni che che facevo tutto parte dalla traduzione in tedesco di se questo è un uomo tema e questioni su cui Martina Mengoni ha scritto anche sul precedente libro eh la lezione primo lei appunto a cui alludeva a cui alludeva Anna Baldini il carteggio con il traduttore tedesco il carteggio con ecco proposero l'importanza delle lettere carteggio eh in qualche modo la triangolazione con eh Ferdinand Meyer eh T. Schmidt Mass e eh e Levi stesso con il confronto anche questo molto interessante tra il testo delle lettere il testo di Vanadio con le eh differenze accortamente messe in luce da Mengoni che diciamo fa questo lavoro non per una pura così per un pur interesse eh diciamo diciamo variantistico e senso lato ma per mostrare come ci sia da parte di Levi e come è giusto insomma inevitabile che ci sia una manipolazione anche della della memoria mi pare che si che si usi proprio questo questo tema nel libro di Mengoni ehm che è un processo che parte da lontano in fondo parte già dalla tregua eh con la composizione di episodi non solo non tanto di modalità picaresca ma proprio diciamo irrealistici nella struttura degli incontri per esempio eh per non parlare insomma delle libere rielaborazioni Levi che in qualche modo si giustifica con Lello Perugia sul fatto di aver calcato la mano mimeticamente su quel personaggio a lui eh a lui ispirato ehm diceva appunto eh l'importanza dei carteggi l'importanza del rapporto con interlocutori eh vicini o distanti anche come prospettive pur avendo condiviso esperienze analoghe molto interessante quanto si osserva sul rapporto tra Levi e eh e di Ameri con eh appunto il qualche modo il richiamo a distanza di Ameri rispetto a Levi forse anche di Levi rispetto ad Ameri cioè quando nel capitolo comunicare Levi scrive di esprime insomma un po' un'insofferenza quando sente parlare della eh di una comunicazione mancata o impossibile nel mondo d'oggi i figli insomma che eh intendono il termine comunicazione in senso eh esistenziale ideologico ecco qui sembra quasi un eco ma magari è un caso di di quello che Ameri scrive nel primo capitolo ai confini dello spirito dice si discute molto oggi della difficoltà di comunicazione dell'uomo moderno ebbene nel campo esisteva davvero il problema dell'incomunicabilità si poneva in un istante in maniera reale direi tormentoso ecco concludo mi avvio a concludere da questa eh da questa eh così costellazione eh di di riferimenti che eh Mengoni sa ben individuare e e costruire in sistema ecco ehm emergono poi delle conclusioni importanti proprio su che cos'è questo su questo libro cos'è insomma di come va letto eh è un libro dice Mengoni ad accesso multiple in qualche modo poroso eh anche per questo affascinante si può entrare mi pare così questa metà si può entrare da ogni saggio in sostanza ed è un libro eh di 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 è un libro diacronico cioè un libro che la cui concezione eh accompagna in vario modo insomma nelle sue varie fasi più di vent'anni della vita dell'opera di Levi e quindi va letto in questo senso e quindi anche come dire correggendo e se non proprio escludendo l'idea che sia un libro che sia scritto nel cono d'ombra del suicidio insomma dell'esito ecco di eh di primo Levi al contrario sembra un libro proprio di eh di rilancio ecco in qualche in qualche modo e credo che davvero possa essere letto così a vari livelli anche proprio a livello di scrittura un libro che mostra un'energia eh intesa proprio come forza dinamica eh retorica nella forma e nella scelta del genere che ne fanno un libro molto propositivo veramente di di apertura direi con la capacità di costruire per esempio il personaggio il personaggio anche dell'avversario attraverso forme discorsive che Levi prima non aveva messo così bene a fuoco cioè i tentativi che Levi fa tentativi insomma i casi in cui Levi dà voce ai personaggi scegliendo una modalità mimetica come per esempio nella tregua sono tentativi spesso eh se non fallimentari insomma certamente non i più memorabili della sua scrittura ecco nella scrittura dei suoi messaggi fa qualcosa di diverso crea delle delle forme di espressione del personaggio eh che si basano su altre su altre strutture e questo per appunto ribadire l'idea che sia un libro nel cui nel cui complesso occorre entrare per guardarlo appunto come un libro eh di apertura e non solo e più o meno preterintenzionalmente di chiusura di un percorso. Eh e a proposito di chiusura mi fermo davvero qui e eh vi ringrazio. Eh grazie a te veramente Nicola per questa bellissima presentazione per come sei riuscito a tenere insieme i nodi e e a mettere appunto a far clashare i due libri. Ora Martina, Irene non so come volete chi tra di voi vuole prendere più primo la parola. Come vuoi posso volentieri iniziare oppure ok siamo loro in alfabetico rigorosa. E anche di presentazione da parte di Nicolò che che ringrazio veramente eh di cuore in modo non retorico per essere riuscito appunto a a a illuminare i punti di contatto eh eh tra i libri e anche eh eh come dire proprio i nodi eh del eh del mio lavoro che effettivamente mi interessava mettere eh mettere in luce perché è ehm sono in effetti proprio come dire sono proprio queste sì quello che mi interessava fare era tentare di sondare delle sinergie eh una delle quali è quella tra eh metodologica diciamo tra eh analisi del testo eh da una parte lavoro sul testo eh appunto anche filologico e dall'altra ehm teoria eh della letteratura e un'altra delle sinergie che mi che mi interessava eh come dire saggiare è eh proprio quella tra eh gli studi sull'autorialità da una parte eh e in particolare su su questo eh punto eh centrale eh che che lega eh il dibattito pur variegato degli ultimi eh decenni eh sull'autorialità cioè dell'autore come come costrutto letterario eh culturale, sociale, politico che corrisponde a un determinato discorso, a un determinato insieme, conglomerato, costellazione di discorsi eh appunto eh letterari, sociali, eh politici, eh eh culturali in senso in senso lato ecco questo da una parte questo filone e dall'altra il filone eh appunto che eh che tu citavi che è quello anch'esso variegato al suo interno naturalmente eh di studi sulla traduzione ehm è appunto qua c'è la rivalutazione della traduzione come parte eh della eh letteratura nazionale che è stato anche appunto uno dei eh dei eh come dire dei dei ehm delle colonne portanti concettuali del progetto FIRB eh da cui eh il libro eh in gran parte nasce eh e appunto gli studi sull'intertestualità e quest'idea eh del eh del testo eh come qualcosa che eh che non nasce dal nulla eh che non esiste eh da solo. Ecco mi interessava assaggiare la sinergia appunto tra eh gli studi sull'autorialità da una parte e gli studi su traduzione e intertestualità dall'altra proprio in questo senso cioè facendo vedere che eh ho cercando di dare un contributo a illuminare alcuni casi in cui eh eh le autorialità o l'autorialità o la figura autoriale la postura autoriale non nasce eh dal nulla e non esiste da sola proprio come i testi e proprio come i testi eh circola viene ripresa subisce appunto adattamenti eh trasformazioni eh ed è quindi eh da considerarsi eh tutt'altro eh che una eh con costrutto eh appunto che nasce ex nihilo eh ma ha anch'essa può avere anch'essa eh natura diciamo derivativa ehm eh al secondo grado era effettivamente un punto per me insomma importante eh del ehm del libro a cui tengo molto ehm vorrei vorrei rispondere alla tua suggestione sull'ansia dell'influenza che mi sembra assolutamente ehm oltre che molto interessante eh estremamente eh condivisibile e viene subito voglia di aggiungere qualche pagina al libro ex post insomma questo penso che sia il siano le migliori presentazioni quelle nelle quali ti viene poi voglia di eh di mettere delle come dire di le addenda ehm eh al libro assolutamente eh penso che ehm potrebbe essere un concetto assolutamente eh fruttuoso nel caso di eh di Fortini e degli autori europei soprattutto tedeschi eh con i quali si confronta qua va detto come dire che davvero questo libro nasce eh anche forse soprattutto eh nella sua eh riflessione diciamo teorica nasce da un da un dialogo eh da un dialogo con i componenti del eh del progetto FIRB appunto Anna eh Baldini, Michele Sisto, Anna Antonello, Stefania De Lucia eh D'Aria Biagi e e e nonché con le persone che questo eh progetto hanno collaborato ci tengo solo eh a citare due che sono con noi oggi cioè Camilla Miglio e Paolo Maria Filippi e queste questo dialogo con questo eh con queste persone ha in qualche modo eh eh contribuito eh a a a incanalare anche poi quella che è diventata la mia riflessione eh sul caso eh preso in esame ma l'ansia dell'influenza mi sembra veramente una suggestione come un suggerimento ehm eh eh interessante per Fortini perché è in qualche modo un 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 concetto a suo modo paradossale no? No? Per cui c'è il 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 eh come dire l'influenza da una parte l'influenza appunto e dall'altra invece il il moto che porta a sottrarsi eh eh a a questa stessa influenza e forse di Fortini come dire adesso che ci penso mi interessavano una serie di paradossi ecco se sul piano metodologico mi interessavano le sinergie eh sul sul eh nella parte analitica del libro mi interessava eh forse la la riflessione su alcuni paradossi fortiniani che sono da una parte la diciamo la 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 coesistenza addirittura la consusta consustanzialità di ehm attività di forme letterarie eh che rimandano a eh tipi di autori molto diversi come sono la traduzione da una parte eh la critica eh insomma il saggio dall'altra e ancora eh la poesia ma mi interessava proprio soprattutto questo paradosso di ehm tra eh come dire il moto construenz e il moto destruenz ehm per quel che concerne il modo in cui Fortini crea la propria postura autoriale a partire eh da eh da posture autoriali ovvero sia da testi poi alla fin fine eh di testi di eh autore della poesia eh europea tedesca eh in particolare ebresta è naturalmente l'esempio eh principe ma mi sono eh concentrata poi eh anche molto su eh Krauss su Enzensberg eh su Heine eh ecco e e e forse mi piacerebbe spendere due parole sul eh sul caso di Heine eh come eh come ehm come esempio di eh del eh del moto eh che costituisce eh che costituisce in qualche modo eh una uno dei due movimenti eh che 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 sui sui quali ho cercato di riflettere eh nel libro perché la eh traduzione che eh Fortini eh inserisce nella sua autoantologia eh del ladro di Silea che è il ladro di Silea del 1982 la sua autoantologia di traduzioni eh poetiche la traduzione di Heine che eh Fortini inserisce eh nel ladro di Silea eh è davvero eh come dire ehm è davvero eh da fa 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 veramente fare un salto eh sulla sedia a chi la legga ehm soprattutto a chi la legga ehm ehm sape avendo letto Heine in in originale e avendo eh anche riflettuto sulla eh sulla sulla ricezione di Heine in Italia eh precedente a Fortini perché eh la ehm eh quello che Fortini fa è prendere gli ottonari ehm di Heine eh con il loro ritmo melodioso con una struttura metrica eh estremamente eh regolare con un tessuto di eh di anafore eh molto raffinato ehm ecco prende questo questo eh questo testo eh e invece eh eh lo sottopone a eh cesure iterate anche all'interno dello stesso verso a un giambio fortissimi ehm dislocazioni eh di ehm sintacce per cui fa in modo che il verso eh non non coincida più con l'unità di senso ehm e eh eh ecco il risultato eh di cioè quello che che Fortini sta facendo è eh molto chiaramente eh costruire la sua stessa eh postura autoriale si potrebbe dire fortinizzare Heine ma cosa vuol dire fortinizzare Heine in questo caso significa applicare una eh eh una marcatura eh ritmico-metrica che Fortini ha mutuato da qualcun altro che ha mutuato da un autore sul quale ha letto sul quale ha riflettuto moltissimo e che ha anche eh tradotto che è appunto eh Brecht e quindi in qualche modo Fortini adotta una postura brechtiana mentre adatta Heine per dirlo eh per dirlo eh con una formula in questo senso si può dire che quella quella eh traduzione di Heine di Venitian Leinemhaus eh è eh una sì una riscrittura di un testo di Heine ovviamente ma è anche una riscrittura dell'autorialità di Brecht in questo senso eh parlo di ehm di riscritture di eh autorialità eh diciamo le il diventa ancora più interessante poi quando non sono solo Heine e Brecht a convergere in un testo in uno stesso testo ma eh è Baudelaire a essere brechtianizzato eh brechtianizzato nella misura in cui Brecht è parte, è il cuore o è o è come dire uno delle colonne una delle colonne sulle quali eh Fortini eh sceglie di eh sceglie di eh costruire la sua postura autoriale eh come discorso appunto letterario, culturale, politico eh e sociale. Poi come dire lì è stato interessante anche andare a vedere tutto cioè andare a mettere questo tipo di operazione quella su Heine ad esempio nel contesto della storia della ricezione di Heine eh nei eh nei decenni nel nel secolo e mezzo eh nel secolo precedente eh che è una storia interessantissima, una storia ricchissima eh che va appunto nel re De Santis Massarani eh per non parlare di Nievo eh che lo che lo tradusse soprattutto di Carducci e che ha trova un suo snodo fondamentale in noventa no? Poi come come in in qualche modo eh eh gancio no? Tra eh tra Fortini eh e quest'altro, questo tipo di traduzioni eh di Heine con con le quali eh Fortini eh si confronta. Allora se Heine è in qualche modo il il sostrato eh a partire dal quale Fortini costruisce eh una per se stesso eh una una postura autoriale eh brechtiana poi ci sono appunto a proposito di ansia dell'influenza molti test in cui eh appunto rispetto a questa influenza brechtiana eh Fortini eh mostra un rapporto dichiaratamente eh controverso e e e e agonale appunto agonale ehm in modo dichiaratamente agonale per cui eh come dire è interessante per questo parlo di paradosso è interessante perché di fatto eh il rapporto che Fortini ce l'ha anche con se stesso nella misura in cui eh nella misura in cui eh come dire l'ansia dell'influenza rispetto a Brecht è un'ansia eh dell'influenza eh eh rispetto al alla 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 sua stessa eh postura. E qua uso appunto il termine eh di Meso e eh di questi di questi tentativi di sottrarsi di mettere di 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 porre di verificare per usare un termine molto fortiniano eh il eh no di mettere a verifica la la propria postura autoriale sono esempio sicuramente le eh le eh traduzioni eh immaginarie in questo anche senso estremamente eh eh ampio che che Fortini dona eh al al termine che addirittura più ampio eh del eh di quello di pseudo traduzione che è il eh il termine impiegato eh nel diciamo in ambito traduzione traduttologico per questo tipo di traduzioni da testi che non esistono e che hanno chiaramente un valore metapoetico ehm eh eh alto. Anna scusami ho perso un po' la cognizione del tempo ancora un minuto o lascio la parola volentieri a Martina? No, credo che puoi chiudere il discorso quando. No, Irene ti dicevo che secondo me. Perdonami no, chiuderlo pensavo dicendo nel senso come dire mi taccio no no semplice ecco lo chiudo semplicemente facendo un piccolo esempio di eh di questa eh traduzione immaginaria eh di queste traduzioni immaginarie che sono anche che in qualche modo sono anche un eh un segnale di di rapporto eh di ansia eh o di angoscia dell'influenza ehm rispetto a Brecht e che è la il momento in cui nel quarantacinque eh Vittorini eh al Politecnico vuole fare un numero sulla Cina eh e eh Fortini eh come dire si si impegna a procurargli delle traduzioni eh dal cinese naturalmente immagino le abbia permesse immediate insomma si eh presenta con una eh poesia di Xiao Qian che viene eh accolta con grande entusiasmo da eh Vittorini perché eh eh no si coincide perfettamente con l'idea che Vittorini ha eh di letteratura eh della letteratura cinese che egli attraverso il Politecnico vuole eh vuole eh veicolare se non che questo è un testo originale eh eh di Fortini eh e la cosa interessante è che eh accanto a questa eh poesia traduzione immaginaria eh di eh Fortini che si chiama La via dello Yenon ehm Fortini eh pubblica un un saggio che si chiama La poesia e libertà che di fatto è la chiave eh la chiave per eh eh interpretare l'operazione eh Fortiniana perché in questo saggio Fortini sostanzialmente afferma che la letteratura eh può veicolare verità verità nel senso più che verità ideologie verità no? In verità intesa come 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 pezzi di ideologia solo eh al prezzo di diventare come dire inganno e menzogna eh essa stessa e qua c'è eh un passo eh forte di presa di di distanza direi anche serio ludica no? Eh nella dimensione nella dimensione in cui il serio ludere è una presa di posizione eh di tutto di tutto riguardo risponde un appunto un un atteggiamento se si vuole serio ludico eh di 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 diciamo di messa eh di messa eh a distanza di quella postura di poeta morale del socialismo qua sto citando Fortini stesso eh che eh attraverso che Fortini aveva eh cercato di costruire eh attraverso il discorso sarebbe naturalmente molto più eh molto più eh complicato ma lascio molto volentieri la parola eh a Martina e ringrazio eh di nuovo anche Niccolò per aver eh per aver ehm diciamo per avermi riportato l'attenzione su quella eh passo di eh Fortini su Levi eh che eh è davvero eh davvero eh perfettamente calzante per il discorso nostro. Grazie Irene e grazie anche da parte mia a Niccolò Scaffai per questa davvero bellissima e generosa presentazione e e anche grazie a tutti voi a tutte voi per essere qui a parlare dei nostri libri con noi. Eh sì questo libro ehm i sommersi salvati di primo Levi storia di un libro eh questo libro che già nel titolo dichiara esplicitamente di essere un libro su un altro libro insomma senza come di senza ingannare più di tanto il lettore sulla sua natura eh nasce proprio da una ricerca di diversi anni su sommersi salvati nell'idea che che la sua genesi fosse davvero stratificata pluridecennale e che fosse proprio un libro di apertura ringrazio Niccolò Scaffai per questa formula che non l'avevo mai pensata in questi termini mi era venuta in mente l'idea che ehm la formula di un libro pugnace di un libro combattivo ma ancor di più davvero un libro di apertura e ehm su queste ipotesi ehm è nata questa ricerca ehm da una parte ovviamente da archivio e basata come come già ricordato Niccolò Scaffai su su una serie di eh carteggi e dall'altra appunto anche proprio di ricerca di eh di ipotizzare una cronologia di stessura di composizione di ricerca di avantesti testi progressivi quindi un lavoro di ehm di questo tipo e diciamo come primo prima ricognizione ne è emersa l'idea che il libro fosse risultato un po' di due direttrici principali una direttrice quella dei tedeschi che avevo già in breve esplorato di per sé nell'altro libro e che poi è anche diciamo eh il motivo principale per cui questo libro è accolto in questa collana cioè il fatto che i sommersi salvati è un libro tedesco è un'etichetta diciamo anche parziale ma giusta cioè è un libro che nasce in prima battuta ha come primo atto di genesi anche se non esplicita anche se non ehm diciamo ehm intenzionale certamente lo scambio con i lettori germanofoni tedeschi germanofoni la rete epistolare germanofoni le letture tedesche che poi diventano eh anche un tessuto di fonti su su sulle quali questo libro e sulle quali i sommersi salvati è costruito e diciamo ehm in questo studio anche ehm creo e aggiorno una sorta di biblioteca tedesca di 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 letture tedesche germanofone che che Levi ha eh diciamo fatto negli anni che i carteggi permettono di individuare retrodatare e che danno anche una profondità appunto storica a poi la loro comparsa mh diciamo puntuale puntiforme nel libro e questa direttrice tedesca ehm è fondamentale di per sé forse nella biografia intellettuale di Levi però certamente per questo libro perché su questa su queste fonti e su questi carteggi si modellano una serie di capitoli del libro zona grigia vergogna violenza inutile comunicare intellettuale ad Auschwitz ehm che quindi ehm le cui riflessioni sono già parzialmente presenti in questo carteggio che storicamente avvia in questi carteggi che storicamente avvengono soprattutto negli anni sessanta e la seconda direttrice come come già notava giustamente Niccolò Scaffai è quella delle mh della riflessione ehm sulla possibilità del racconto di Auschwitz sulla possibilità della memoria e quindi è una è una direttrice che coinvolge problematicamente il ruolo stesso di Levi come testimone e soprattutto il suo ruolo come testimone con mh nei confronti di nuove generazioni gruppi di lettori particolari come quelle degli studenti delle scuole che sono davvero uno dei motori di questo libro e questa seconda direttrice diciamo ehm forgia soprattutto i capitoli memoria la memoria dell'offesa e eh stereotipi eh quindi eh i sommersi salvati è un libro tedesco ed è anche un un meta libro sulla memoria è anche un libro lo dico in modo in parte provocatorio in parte credendoci profondamente un libro per gli studenti con questo per che è inteso come scritto in quel momento pensando anche agli studenti come destinatario e poi anche lo dico come il rilancio diciamo eh anche nel presente e ovviamente ehm queste due direttrici funzionano eh se se inserite in un contesto storico gli anni diciamo che ehm in questo in questo studio agisce un po' una divisione eh schematica per decenni ma eh insomma credo motivata e funzionale eh degli anni sessanta e gli anni settanta dove gli anni sessanta sono il decennio dei carteggi tedeschi e gli anni settanta il decennio ehm in cui agiscono tutta una serie di elementi soprattutto di carattere storico culturale eh storico sociale anche biografico in senso stretto però penso soprattutto a una serie di fenomeni tra cui la paura di rimergere di fascismo la il fenomeno della Hitler Velle anche quello un fenomeno tedesco se vogliamo cioè le biografie di Hitler che nasce che che il fenomeno dell'esplosione di biografie di Hitler dei primi anni settanta il ruolo di testimone pubblico di Levi l'abbiamo già detto e alcuni libri fondamentali Niccolò Scaffai ricordava giustamente Mention in Auschwitz e altri attorno al quale Levi piano piano sviluppa anche il concetto di zona grigia ehm e poi il negazionismo di fine anni settanta ora ovviamente diciamo questo solo per dare un'idea di del tipo di lavoro e anche un po' diciamo di mh come sono tenuto insieme due diciamo la dimensione analitica e la ricostruzione mh storica e del contesto diciamo ecco mh nel ripercorrere questa storia mh mi premeva e spero in parte di averlo fatto porre alcuni nodi critici eh che volevo sottoporre all'attenzione e di alcuni di quei alcuni di questi sono già stati citati da Niccolò Scaffai quindi a Scaffai quindi li riprenderò insomma anche per offrirli a un'eventuale discussione eh innanzitutto appunto questo mi sembra abbastanza palese però nello stesso tempo secondo me è importante mh focalizzarlo la necessità di storicizzare il pensiero di Levi cioè di tenere conto della componente diacronica degli scarti delle differenze che si sono prodotti nel suo pensiero nella scrittura e nella sua voce nella sua voce specialmente attorno al tema come a un tema come quello della riflessione su Auschwitz quindi una prospettiva proprio diacronica interna all'opera di Levi facendo solo un esempio il tema del il di uno stereotipo diciamo più che critico ehm sì diciamo di uno stereotipo divulgata intorno a Levi il tema del perdone di Levi perdonatore cioè questo tema in realtà ha una sua mh complessità eh che già diciamo se letta prima nei carteggi tedeschi e poi in alcuni altri testi sia di Levi che di Gianna Mary ehm diventa ehm diciamo ehm ehm se ne se ne vedono tutte le implicazioni anche come dire le sfaccettature che per Levi questo questo concetto implica secondo ovviamente del contesto in cui si trova più o meno ad utilizzarlo poi diciamo eh il secondo ovviamente l'ho già menzionato è l'uso e l'intreccio delle fonti che si trovano nei sommersi salvati quindi molte fonti tedesche ehm l'importanza di provare almeno a ricostruire una biblioteca leviana anche a partire diciamo in mancanza momentanea di quella materiale anche per provare a mappare le sue letture quindi anche a vedere come Levi anche diciamo si sia fatto in un certo in un certo senso mediatore proprio nel senso stretto del termine di una serie di libri tedeschi che Levi poi ha anche proposto alle case editrice che ha anche fatto tradurre che anche lui stesso provato a tradurre quindi eh mi riferisco per esempio allo stesso Langbein o a Gianna Mary e quindi in un certo senso ehm diciamo eh attraverso la ricostruzione delle fonti anche mettere in luce questo questo ruolo di Levi e certo poi ci sarebbe come diceva Niccolò Scaffai l'aspetto contrario cioè vedere come Levi si è entrato nella cultura tedesca anche attraverso tutta questa rete di interlocutori epistolari che lui aveva e poi i caratteri del libro caratteri dialogico è già stato ricordato aporetico e paradossale di questo libro che si colgono di per sé in un certo senso però diciamo che in qualche modo la genesi illumina e in filigrana uno dei temi più importanti che appunto anche questo già ricordato da Niccolò Scaffai eh che intorno ai quali ruota la critica leviana degli ultimi anni il rapporto tra testimonianza verità e quello che Levi chiamerebbe appunto arrotondamento finzionale che ho a volte appunto chiamato davvero manipolazione nel senso che è veramente all'opera ehm certamente in tutta la produzione leviana ci sono degli studi che lo mostrano già all'opera in questo nuovo però certamente c'è ci sono dei dei nodi della del suo percorso ehm di scrittore intellettuale in cui questo questo procedimento si fa più acuto e e si ehm e si conglomera attorno a certi temi a certi nuclei di senso importanti e ehm e infine eh qui torno all'inizio l'importanza anche di per sé come oggetto di studio peculiare della rete pistolare leviana degli anni sessanta che noi ovviamente che io in questo libro leggo in funzione di Primo Levi chiaro però che di per sé costituisce un oggetto di studio ehm diciamo a mio avviso culturale eh in in parte letterario ma soprattutto storico culturale di rilevanza abbastanza importante una rete di personalità di primo piano Primo Levi, Heinz Ritt eh Erman Langbein ehm Jeana Marie eh Eti Schmidt Maas che ragionano su una serie di temi la colpa, la vergogna, la responsabilità in un momento storico gli anni sessanta cruciale per l'elaborazione di questi temi stessi e diciamo subito dopo lo svolgimento di di lo svolgersi di alcuni processi chiave eh come quello di Gerusalemme di Corsoforte di Gerusalemme e quindi diciamo come un diciamo un rilancio anche per per studiare questo oggetto di per sé anche non necessità mantenendo certamente la via al centro però ecco dando gli anche un'importanza storico culturale ehm di per sé quindi ecco io mi fermo qui eh diciamo ehm che mi piacerebbe anche poi che insomma questi temi fossero eh insomma rilanciati approfonditi nella discussione. Grazie Martina allora quindi a questo punto io aprirei innanzitutto all'intervento del pubblico se qualcuno vuole prendere la parola lo ripeto vi invitiamo a indicare la vostra volontà nella chat e non so se magari vogliamo rilanciare la discussione immediatamente tra eh il nostro scassante le due autrici non so se Niccolò hai qualcosa che gli ultimi interventi ti hanno fatto venire in mente? Tanto io vi controllo la chat. Grazie grazie Anna grazie a Martina, Vingoni, Renne e Fantapie anche per questi loro eh interventi che hanno ulteriormente contribuito credo proprio a farci entrare eh nel cantiere ecco insomma dei dei loro rispettivi dei loro rispettivi eh lavori e ehm forse è questo ecco che sarebbe interessante eh commentare insomma eh cioè eh come sono nate le rispettive idee ecco di questi lavori molto originali su due autori diversamente ma entrambi eh canonici che hanno alle spalle una tradizione critica già molto già molto imponente ecco e però da dove da dove si parte diciamo per arrivare a scrivere come avete fatto cioè quella di voi due un libro un libro originale e beh lo chiedo anche pensando e sperando insomma che ci siano un collegamento anche dei degli studiosi giù diciamo informazione se non proprio degli studenti potrebbe essere potrebbe essere una una questione interessante eh però poi ecco visto che hanno avuto poco tempo per per parlare dei loro libri magari anche possono prendere sputto direi per dire altre cose che desiderano ci sono sicuramente degli studiosi informazione vedono alcuni miei dottorandi quindi sicuramente sarà una eh un racconto molto utile non so Irene Martina chi se la sente di partire? Come vuoi? Vai Irene manteniamolo bene. Allora no la mia è stata un po' lo accennavo prima è stata veramente una genesi ora non voglio dire di gruppo perché comunque eh eh è un libro che è come è diverso dal dal libro che apre la collana cioè storia eh della letteratura tedesca in Italia che è veramente un libro di gruppo il mio non è un libro di gruppo naturalmente mi prendo la responsabilità di qualsiasi come dire di qualsiasi cosa ci sia scritta dentro ma eh è stato sicuramente è stata una genesi in dialogo ehm e eh e davvero eh come dire è una genesi che 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 risale alle mie riflessioni intanto precedenti sulla traduzione eh che ehm che vengono dalla tesi di dottorato eh anzi dalla tesi di laurea e dalla tesi di dottorato e di nuovo qua i nomi di Paola Maria Filippi e Camila Miglia sono sicuramente rilevanti ma è è stato un libro che è nato eh davvero in ehm eh è nato dalla dall'incontro con persone che si occupavano di cose diverse eh eh cioè di oggetti cioè che avevano diciamo tra le mani oggetti della ricerca diversi ma si ponevano domande abbastanza simili non del tutto simili ma abbastanza simili e questo è stato penso la nostra la mia la nostra fortuna eh nel senso che ci siamo eh confrontati all'interno del progetto FIRB che ovviamente il il eh il gruppo a cui mi riferisco eh ci siamo ehm eh confrontati con eh prima di tutto con le domande stesse eh no eh eh con con lunghe discussioni eh sul eh sulla sulla teoria eh e eh e poi eh chiaramente ognuno ha lavorato continua a lavorare eh in autonomia eh sui eh sul sull'autore eh specifico eh ma con un feedback sempre molto eh molto molto eh come dire eh puntuale eh dagli altri eh perché Fortini nello specifico cioè quindi perché la traduzione perché la riscrittura diciamo qua c'è veramente il mio background eh e i miei studi su Gramos dietro come 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 background eh ma perché Fortini ehm allora prima di tutto perché è il eh è il eh è il come dire tra i mediatori di letteratura tedesca che è la letteratura diciamo straniera eh di eh di riferimento per me eh del novecento Fortini è uno dei nomi per la poesia insomma veramente tra tra no tra i maggiori eh e e e quindi eh eh questo è stato il primo il primo motivo eh e l'occasione è stata poi in realtà un paper dato a un convegno ehm a un convegno che si è tenuto a Roma nell'ormai lontano a duemila e dodici se non erro eh dove mi eh mi ero confrontata con la traduzione eh quella di Ensensberga eh no e con tutto eh e con tutto il contesto eh eh della traduzione di Ensensberga che poi è una traduzione dedicata nell'Isax ehm a sua volta autrice alla quale insomma avevo dedicato alcuni studi quindi da lì eh da lì è nato poi eh un ehm un saggio da questo saggio è nato un altro saggio che tentava di falsificare il saggio numero uno eh e cercando di vedere se eh se eh avevo veramente eh se ero veramente convinta di quello che nel nel primo eh studio avevo eh avevo affermato eh e poi di conseguenza ampliandone eh il raggio eh al contempo eh diciamo è sorta questa riflessione sulle traduzioni immaginarie eh e devo dire che eh l'unità eh di questi studi eh è venuta eh quasi ex post per cui poi alla fine ho riscritto ho riscritto eh quei capitoli che avevo ehm che avevo eh steso insomma eh li ho riscritti ex post a partire da una eh da una idea unitaria di libro che è venuta però dopo non prima eh dei dei eh eh dei due studi che ne sono che ne sono il cuore che sono il secondo e il terzo eh il terzo capitolo della seconda parte quindi eh è stata davvero una eh una gestazione a Rebur come quindi la presentazione di Niccolò Scaffaia Rebur eh era era come dire eh genetica insomma strutturalmente giustificata poi eh dal libro stesso e in qualche modo ecco forse sì eh quindi una una genesi in dialogo con con le persone che che rammentavo prima ma una genesi forse anche come dire ehm ecco penso che il libro nasca molto anche dal ehm dal tentativo di cercare anche qui di di nuovo una sinergia tra quello che è da quelli che sono gli studi sulla ricezione in senso lato eh o sulla traduzione e e gli studi sulle letterature nazionali eh eh tedesca italiana eh che siano ecco eh nasce un po' da 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 questo eh da questo eh tentativo quindi appunto sì ecco così grazie sì io diciamo come cronologia più o meno ci siamo anch'io diciamo duemila undici duemila dodici avevo diciamo fatto un saggio avevo fatto un saggio insomma una piccola ricerca sul personaggio di ronkowski e che appunto un personaggio questo decano del ghetto di uc citato da levi nel capitolo la zona grigia mi ero resa conto che levi utilizzava una veramente una pluralità di fonti sia storiografiche che letterarie per costruire questo personaggio che era abbastanza sorprendente abbastanza come dire prima di tutto una serie di fonti che non erano come dire registrate ehm e poi anche combinate in una maniera piuttosto peculiare ehm e quindi mh utilizzava vari testi storiografici un racconto di uno scrittore polacco utilizzava Shakespeare cioè faceva un un lavoro di di tessitura eppure eh costruiva una storia quella di ronkowski che ha un sacco di di riproposizioni sia storiografiche che letterarie cioè una storia che ha avuto una certa fortuna letteraria anche successiva a quella di levi ehm e in una maniera ehm molto singolare che non aveva uguale non aveva molte similitudini perché era una storia che si prestava molto cioè qual chiunque la raccontasse non sfuggiva al al tentativo di prendere una posizione eh su questa figura cioè il fatto che questa figura a un certo punto eh diventa da essere il decano di questo ghetto diventasse diciamo anche colui che stilava le liste di deportazione creava una sorta di di corto circuito nel nel narratore eh che anche 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 se si trattava di un narratore diciamo ehm di uno storico di una storica cioè difficilmente si sfuggiva. Levi era riuscito a costruire questa storia utilizzando queste fonti perché era palese che le aveva utilizzate perché c'erano proprio dei rimandi però costruendo una storia alla sua maniera completamente differente e restando in un equilibrio sul filo del paradosso da un punto di vista proprio della dell'analisi di questa vicenda. Quindi poi ehm da subito ho avuto il desiderio di di esplorare proprio tutta la genesi di questo libro per 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 vedere se questo tipo di 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 operazione che avevo visto in piccolo si riverberava nel grande e in un certo senso anch'io ho fatto un ragionamento eh dalla fine all'inizio cioè perché ho ho proprio pensato i sommersi salvati letto dalla fine all'inizio dall'ultimo capitolo che è il capitolo letteri tedeschi forse ci può dare una chiave d'accesso a questo libro e lì diciamo ho fatto un lavoro diciamo anche piuttosto eh come dire sono andata sostanzialmente a visitare tutta una serie di archivi europei che 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 conservavano parte di questi carteggi che non sono appunto presi dall'archivio privato di Levi che non è ancora accessibile ma che provengono da tutta una serie di archivi diciamo tedeschi o anche dalla Wiener Library di Londra dove c'è questo fondo che diverse delle persone all'ascolto conoscono bene eh lasciato dal biografo Jan Thompson di di primo Levi quindi sostanzialmente ho fatto questo lavoro sulle fonti che mi ha come dire disvelato ehm diciamo delle piste sulla mia ipotesi principale cioè che questo libro non fosse un libro costruito ehm in poco tempo anche perché lo stesso racconto di Runcos che era già uscito negli anni settanta il concetto di zona grigia si sapeva già che era stato elaborato eh tra il settantacinque e il settantasei e quindi come dire c'era già questo questo c'erano già dei dati che indicavano una genesi almeno di dieci anni questi carteggi hanno mostrato in maniera evidente che insomma c'era un ulteriore percorso da fare e non solo soprattutto il carteggio con il traduttore Heinz Ritt di cui ho parlato poco diciamo nella mia presentazione però che è forse il carteggio più incredibile più bello di di tra questi e tra l'altro con una figura Heinz Ritt di cui poi anche dopo aver pubblicato questo libro sto continuando a a trovare cioè sto continuando a ricostruire i contorni ad esempio eh si sa che che Ritt ehm diciamo eh a Ritt arrivò questo libro da tradurre perché Ritt era diciamo ehm l'intermediario tra Brecht e il piccolo di Milano di questo ne parla già ne parla anche Massimo Bucciantini nel suo libro e in questo diciamo negli anni cinquanta nel cinquantacinque ehm diciamo lui viene a conoscenza di questo libro e eh e lo propone poi all'editore Fischer ed è il primo libro che lui pubblica in Germania Ovest perché eh Ritt abitava a Berlino Est e fino a quel momento aveva pubblicato tutta una serie di libri ehm di traduzioni in Germania Est con uno pseudonimo Panrova tutte queste cose non ci sono nel libro però stanno venendo fuori quindi per dire che questo carteggio eh è stato è un carteggio mh cioè che mi ha fatto capire che c'era veramente la possibilità di costruire questa genesi anche perché in questo carteggio c'erano delle riflessioni c'era una sorta di primo eh autocommento su se questo un uomo ulteriore in cui emergevano una serie di riflessioni ulteriori a se questo un uomo che in se questo un uomo che andavano oltre che anche quasi rimettevano in discussione o comunque specificavano o che di fronte a una serie di obiezioni e problemi di traduzione posti da Ritt venivano sollecitate a mh eh veniva sollecitata una sorta di ehm risistemazione anche di certe riflessioni che poi alcune delle quali ad esempio alcune riflessioni sulla vergogna andavano pari pari poi a ritrovarsi nei sommersi salvati e quindi da lì mi sono convinta che valesse la pena anche proprio dedicare un lavoro lungo che poi è stato il mio lavoro di dottorato alla scuola normale superiore di Pisa a questo libro e alla sua genesi perché implicava tutta una serie di ehm di di percorsi e di fili anche molto intrecciati tra loro e diversi che erano che dal mio punto di vista insomma valevano senz'altro la pena ecco grazie grazie Martina dunque io continuo a non vedere richieste da parte del pubblico quindi forse possiamo non lo so intanto volevo fare io un rilancio visto che Niccolò ha chiesto la storia dei libri e visto che Martino in realtà ha già cominciato andare in questa direzione vorrei chiedervi se vedete continuerete a lavorare nel futuro su questo non necessariamente sulla cioè non so penso Irene magari svilupperai più la parte teorica lavorerai su altri autori mentre Martina dice che già sta scoprendo delle cose che non sono nel libro e quindi probabilmente verranno fuori in altri lavori in altre forme ma guarda è come dire grazie a della domanda perché anche io ho appena finito un saggio che avrei come dire mi piacerebbe poter inserire nel libro come come foglio volante a parte che in qualche modo nasce dal libro e che è un saggio su la relazione cioè sul triangolo diciamo Fortini Enzensberger Brecht dove l'accento in questo saggio non va neanche tanto devo dire su Fortini quanto su Enzensberger Brecht e la cosa interessante che ho scoperto e che l'ho scoperta grazie agli studi che ho fatto su Fortini e perché altrimenti non l'avrei proprio vista è che questa angoscia dell'influenza appunto che questo rapporto controverso con Brecht ce l'ha non solamente Fortini ma ce l'ha anche Enzensberger il quale viene salutato nel 57 quando pubblica la prima raccolta come il nuovo Brecht e viene salutato come il nuovo Brecht e niente di meno che da Anders e perché dice appunto finalmente abbiamo la nuova poesia politica della Germania moderna e appunto Enzensberger ecco questa questa in qualche modo questa questa allure brechtiana che Enzensberger si ritrova in qualche modo gettata addosso anche se poi si potrebbe speculare su una sua cioè si potrebbe speculare sul faccio e si può anzi affermare che in Fertadim de Wulf come dire Enzensberger pone chiaramente le premesse di questa di questa lettura che Anders fa comunque insomma questa etichettatura brechtiana che Enzensberger si ritrova è un'eredità estremamente come dire importante ma scomoda dalla quale egli stesso cerca di sottrarsi e nel momento in cui all'inizio degli anni Sessanta tra fine degli anni Cinquanta e inizio degli anni Sessanta Enzensberger comincia a scrivere lettere e intrattenere un carteggio un carteggio con Fortini in occasione della della pubblicazione pianificata delle poesie di di Fortini in tedesco che Enzensberger ha accettato di tradurre ecco in quella in quella cornice il problema brecht per Enzensberger diventa ancora più gravoso perché Enzensberger si ritrova a essere l'ambasciatore in Germania del di un brecht italiano sostanzialmente ed è estremamente interessante vedere come poi Enzensberger presenta nella prefazione alla traduzione tedesca delle poesie di Fortini è estremamente interessante vedere come Enzensberger presenti Fortini lo presenta come un erede dello Stilnovo ora è di Dante ora con tutto che sicuramente Dante ecco vedo Niccolò Scappai che lievemente sorride con tutto che Dante indubbiamente come dire è un autore che Fortini ha letto sul quale Fortini ha meditato insomma niente niente da dire però ecco forse Dante e Stilnovo non sono esattamente i primi i primi riferimenti le prime fonti alle quali uno pensa quando legge quando legge Fortini allora lì c'è un chiaro tentativo da parte di Enzensberger di mantenere una distanza tra la propria postura autoriale di fronte al pubblico tedesco la propria postura autoriale è quella è quella di Brecht e quindi appunto questo mi dà l'occasione anche di sottolineare un'altra sinergia possibile che mi sta a cuore che ho cercato in qualche modo anche di insomma lo accennavo prima è quella tra diciamo gli studi appunto delle letterature cosiddette nazionali con la tedesca in particolare e poi gli studi sulla ricezione cioè se non avessi se non avessi saputo come dire se non avessi studiato il rapporto Fortini Brecht non avrei capito non avrei capito il modo i procedimenti processi che stanno alla base di questa strana se si vuole ma importante prefazione di Enzensberger da Fortini che è stata tanto la grande entrée di Fortini in Germania perché la casa editrice era su Orkamp perché a tradurlo era comunque un po' età famoso è stata anche poi la lapide di insomma della ricezione di Fortini in Germania perché poi da lì insomma per dirla come dire in modo franco e diretto da lì di Fortini non si è più occupato nessuno in Germania Grazie Irene. Martina vuoi espandere il discorso che hai già fatto? Molto brevemente diciamo la mia idea sarebbe proprio quella di lavorare su questi carteggi cioè ovviamente dal punto di sei sommersi salvati credo di aver detto tutto quello che volevo dire però ecco da un punto di vista invece dei carteggi mi sembra che proprio perché tutti questi carteggi sono per ora inediti e proprio perché da una parte ce n'è uno che forse ha un come dicevo già un'importanza diversa rispetto agli altri per tutta una serie di motivi che è quello con RIT che avrebbe la pena insomma di lavorarci di per sé dall'altra però quello che vorrei fare sarebbe proprio di lavorare su questa rete epistolare tedesca perché una cosa che forse non ho detto è che diciamo a un certo punto questi carteggi di Levi con tutta una serie di personaggi diventano una rete cioè per un certo periodo in sostanza c'è proprio un giro di posta in cui le stesse lettere vengono lette e commentate da tutta una serie di persone appunto Lang, Bain, Jeann Améry, Hattie Schmidt-Mass eccetera e si commenta anche tra le altre cose lo scambio tra Levi e il suo ex capo laboratorio quello che poi sarà immortalato in Banadio ecco ritengo che mi piacerebbe studiare questi carteggi mantenendo Levi al centro però studiandoli anche attraverso una serie di concetti dei epistolari studies eccetera come una rete come proprio come una rete epistolare come oggetto di studio complessivo che pone tutta una serie di problemi diciamo sia letterari che anche di studi culturali molto peculiari e molto interessanti a mio avviso perché poi in questa rete c'è ovviamente tutta una serie c'è una serie come dicevo anche di scambi di informazioni di libri eccetera però c'è anche una come dire un rilancio reciproco ci sono degli scrittori che propongono a Levi di parlare alla radio tedesca in un tempo ripeto primi anni 60 in cui Levi insomma la prima intervista che conosciamo di Levi in Italia del 1963 c'è Levi che compare in due antologie tedesche diciamo nel 62 e nel 64 e a quel tempo Levi in Italia non era praticamente antologizzato c'è poi tutto il tentativo che fa Levi di pubblicare i suoi carteggi con i lettori tedeschi in Italia e in Audi che diciamo declina l'offerta e quindi Levi che decide di affidare queste lettere a questo sociologo tedesco ma poi naturalizzato americano Kurt Heinrich Wolf che aveva fatto degli studi all'istituto di Francoforte invitato da Horkheimer sulla denazificazione della Germania quindi ci sono tutta una serie di diciamo di ramazioni di questo di questa rete che sono che ovviamente io ho esplorato in maniera diciamo puntuale le ho viste le ho trovate per raccontare una cioè per ricostruire una storia che era quella dei sommersi salvati invece adesso mi piacerebbe studiarle di per sé anche rispetto diciamo ovviamente ripeto tenendo Levi al centro ma ricostruendo proprio un contesto culturale intellettuale che a mio avviso vale la pena grazie mille Martina do un'ultima possibilità a eventuali interventi dal pubblico ne approfitto per annunciare per fare un po' che è in è in Boz insomma il breve ma intenso carteggio Fortini e Zenzberga e quindi per Irene potrebbe essere che forse lo conosce già insomma al centro Fortini ha già consultato ma insomma con l'annotazione di Matilde Manara uscirà da Codlibetta per l'appunto sicuramente entro l'anno grazie Niccolò bellissimo continuare ad avere appunto informazioni sulla ricerca in corso ma anche su quella ormai diciamo arrivata quasi al punto della pubblicazione e visto che non arrivano interventi dal pubblico come host no vedo Camilla apparire Camilla sì vai solo per un un piccolo gioco finale abbiamo parlato per Irene però anche anche per Martina mi frulla in testa la parola lettura perché abbiamo abbiamo parlato di riscrittura e riscritture di autoria di autorialità e di letture riorganizzate all'interno del testo che poi diventano anche proposte di traduzione questo dicevi tu Martina ma come organizzereste il vostro discorso su questa questione della rilettura di autorialità altrui che è proprio questo sguardo marcato e orientato che permette poi la riscrittura di autorialità cioè come come categoria pensate di che possa essere una un'ulteriore espansione dell'idea di riscrittura di autorialità che c'è in entrambe anche 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 nel discorso di Martina c'è questa e mi pare che lo dicesse anche Niccolò no questa riscrittura della propria autorialità testimoniale per esempio per quello che riguarda per quello che riguarda Primo Levi così un po' un rovesciamento antifrastico vediamo come prendere il tuo rilancio Martina Irene ve la sentite di buttarvi sì non so se Martina voi se no posso come dire mi sembra grazie Camilla del dell'idea e lo stimola assolutamente cioè è interessantissimo e secondo me sarebbe importante farlo è una cosa che potrebbe essere un ulteriore sentiero da seguire come dire mi piacerebbe poi mi piacerebbe rilanciarti intanto la domanda sul sul concetto di lettura insomma che comunque per le tue per le tue cose per i tuoi studi è importante ma come dire appunto per come lo conosco anche dal dai tuoi studi penso che sarebbe interessante portare avanti il concetto di lettura in questo caso eh proprio sui eh a questo punto sui manoscritti cioè mi piacerebbe molto eh allora andare a vedere ehm andare a vedere le annotazioni eh su di di no del eh devo dire che questo è un lavoro che eh non l'ho fatto non è possibile farlo per tutti i testi di cui mi sono eh mi sono occupata ma per alcuni eh sarebbe possibile ehm eh e e quindi sì sarebbe interessante andare a vedere eh magari ecco è anche Niccolò Scaffai che ci che mi può dare eh indicazioni in questo senso ad esempio la 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 sulla 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 biblioteca Fortini che so essere eh in gran parte eh al centro studi ma devo dire che appunto questo sarebbe sicuramente un ehm un sentiero da seguire appunto andare a vedere cioè Fortini legge Heine no? Legge Heine lo 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 legge come lo annota lo legge lo lo no lo eh andarlo a vedere proprio nella materialità del ehm eh del del andrà a sondare questo aspetto della 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 lettura anche proprio in questo senso molto concreto molto preciso eh sicuramente ehm certo eh poi come dire il il concetto di lettura estremamente estremamente stimolante ehm eh specialmente penso quindi sarebbe fruttuoso pensare al concetto di lettura anche nel senso di leggere un autore con un altro autore qua c'è anche Lele Gragnolatti che sa fare questa cosa eh 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 estremamente bene di leggere eh allora della lettura fatta della lettura con filtro chiamiamola ecco eh e anche in questo senso anche questo potrebbe essere interessante ehm e potrebbe in qualche modo rientrare di nuovo nel nel cerchio di riflessione intorno alle riscritture di autorealità cioè no? In qualche modo come le 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 interferenze per prendere per riprendere un un concerto dei Lenzo Arche come le le interferenze tra autori diversi eh poi eh funzionano all'atto della lettura cosa succede eh se eh Fortini eh legge eh appunto legge eh come fa eh eh Carducci eh con eh con Petrarca o viceversa o se legge Heine con Petrarca perché dietro appunto c'è Carducci, ecco in questo senso sarebbe sicuramente stimolante farlo, ecco anche se non ci avevo pensato devo dire. Sì grazie molte perché in effetti poi anche prima avevo in qualche modo come dire bypassato invece questo simbolo che aveva già dato anche Nicola Scafai che è molto interessante, io diciamo si possono fare sia degli esempi nei sommersi ma c'è anche un filone che io oggi ho un po' taciuto perché diciamo un po' perché in Levi è minore mentre invece in Portini è maggiore, cioè il filone delle traduzioni da Heine perché anche Levi ha fatto tutta una serie di traduzioni molto libere da Heine dove credo che però questo concetto di riscrittura di autoralità si possa applicare bene anche perché diciamo va a interferire, a fare interferenza con proprio la vicenda che ho raccontato, cioè è come se Levi nel corso degli anni 60 queste traduzioni si datano soprattutto in questi anni, nel momento in cui ha questo scambio con questi lettori tedeschi facesse interferire una serie di temi di questo scambio indirettamente nel tipo di versioni che lui dà di Heine e nel modo in cui forza certe poesie di Heine verso una certa direzione e in questo senso per Levi il filone Heine è un po' complesso nel senso, cioè è un complesso diciamo è in parte ancora da ricostruire anche perché è venuto fuori che sostanzialmente questo per lui era una sorta di gioco con la sorella e praticamente facevano una sorta di scambio di foglietti, di veline in cui si mandavano queste traduzioni da Heine e quindi sarebbe lì proprio da fare un lavoro anche perché alcune di queste traduzioni sono state poi pubblicate dallo stesso Levi e messe anche in appendice delle raccorte, probabilmente ce ne sono molte altre, c'è anche un lavoro di scrittura anche sulle traduzioni reciproche che andrebbe esplorato e questo secondo me è in legame, cito questo aneddoto non per l'aneddotica ma perché questo secondo me è in legame anche al tema della rilettura di autorialità perché così come Heine era il poeta diciamo del lessico familiare c'era anche uno scrittore, un romanziere del lessico familiare che era Thomas Mann che era un po' quello che diciamo per il lessico familiare Proust, cioè in casa Levi, cioè era sostanzialmente in particolare La montagna incantata era proprio il romanzo che Primo e Anna Maria avevano letto fin da piccoli e di cui continuamente ragionavano che è un romanzo che entra in tantissimi testi di Levi, entra in sé questo nuovo, entra nel sistema periodico e entra anche nei sommersi salvati e ci entra secondo me come proprio, io l'ho chiamata come una matrice, cioè ci entra non tanto come intertestualità puntuale ma attraverso, Levi prende sia da La montagna incantata, La montagna magica, sia anche dal ciclo di Giuseppe che alcuni, nel caso della montagna incantata direi soprattutto il cronotopo di Auschwitz e nel caso del ciclo di Giuseppe sulla figura di Giuseppe modella alcuni personaggi chiave di sequestro nuovo che poi ritornano anche nei sommersi salvati tra cui anche l'io di sequestro nuovo e quindi secondo me diciamo in questo senso il discorso per Levi è molto interessante, poi ci sono anche altri esempi solo sui sommersi salvati per esempio il caso di Alfred Doblin che Levi, per cui sostanzialmente da una piccola citazione che lui fa nei sommersi salvati si capisce che Levi fa un uso preciso di una serie di vicende del protagonista di Berlino Alexanderplatz per modellare proprio la figura di Runkowski e anche per costruire una sorta di racconto gemello che è a forza maggiore, quindi secondo me questa categoria è molto molto funzionante in effetti anche in Levi e anche poi c'è l'altro filone della riscrittura di autorialità cioè si interseca diciamo col filone dell'autoriscrittura e dell'autocommento Cavaillon diciamo uno dei nodi critici per Alberto Cavaillon è l'idea che tutta l'opera di Levi dopo se questo nuovo sia un continuo autocommento, ovviamente un'affermazione radicale però si potrebbe dire che questo continuo ritornare su questo testo che Levi chiama memoria protesi per ricommentarlo, distanziarsi, per utilizzarlo come una sorta di punto da cui avvicinarsi o distanziarsi avviene attraverso altri testi che in qualche modo servono, hanno proprio questa funzione e anche attraverso le traduzioni, quindi sicuramente è una, cioè diciamo provare a ragionare su Levi con questa costellazione di concetti apre veramente ulteriormente a costruire un discorso diciamo come dire intersecato a quello che ho appena fatto molto interessante Bene, grazie Camilla davvero per aver rilanciato la discussione in maniera così proficua a questo punto sono le sette, forse possiamo salutarci visto che non vedo altre richieste di interventi da parte del pubblico ringrazio moltissimo innanzitutto le autrici per essere state con noi ringrazio molto Niccolò per aver presentato con tanta ricchezza individuando tanti filoni comuni e per aver rilanciato la discussione e ringrazio naturalmente anche tutti quelli che ci hanno ascoltato Grazie Grazie, grazie a voi, grazie a te Anna e a tutti Grazie da parte mia Grazie mille Anche Anna Arrivederci, buonasera Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti